Marco Cuomo, prima della Ricca per te ufficiale, prima da capitano del Charles Muzzane, diciamolo, è mancato solo il gol, soprattutto nel secondo tempo. Sì, sì, credo che abbia fatto un'ottima prestazione, come dici tu c'è mancato di buttarla dentro, però ripartiamo appunto da quello fatto da tutti i ragazzi, guardiamo avanti con ottimismo. Dietro due assenze importanti, Dionisi, Pellizzeri, insomma hai giocato tu con Gentile, quasi una coppia anomala in questa prima parte, insomma però anche il mister ha detto chi gioca si fa trovare pronto, è stato così anche nel reparto difensivo oggi. Sì, sì, come hai detto tu, la prima da capitano perché non c'era Miki, però è arrivato Tommy la settimana scorsa, si è integrato benissimo, sappiamo di essere una squadra forte, abbiamo una rosa lunga e anche con le assenze di oggi chi è andato in campo poteva portare la partita a casa, ci è mancato poco, penso che abbiamo un gruppo dove chi gioca gioca può portare il risultato a casa e credo si sia visto oggi. Ecco tu sei un veterano della categoria, però oggi 2.2006 in campo nel finale, insomma i giovani ci sono. Sì, 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 i giovani si allenano bene, si mettono a disposizione del mister, ci possono dare una grande mano e siamo contenti.